Bene ragazzi, eccoci finalmente, questa è la video recensione del Nexus 5. Allora, cosa possiamo dire di questo Nexus 5? Innanzitutto direi di andare a vedere Hangout, quindi i messaggi, visto che questa è una prima novità del dispositivo. Sposto un attimo il dispositivo perché devo andare a... ecco, perfetto, abbiamo un messaggio di Vodafone così posso farvi vedere direttamente qui. Praticamente Hangout ci va a raggruppare tutti i servizi di messaggistica non Whatsapp che abbiamo e praticamente in questo caso anche i messaggi devono essere mandati da Hangout. Tramite più possiamo andare a scegliere a chi mandare il nostro messaggio, quindi inviare un nuovo messaggio e scegliere l'essenatario. Noi adesso clicchiamo qui facendo finta di andare a rispondere a questo messaggio di Vodafone e nel frattempo testiamo anche la tastiera che devo dire è davvero fantastica. Ecco qua, ottima tastiera quindi nessun tipo di problema da questo punto di vista. Questo quindi è Hangout. Poi un'altra cosa da dire è il nuovo modo per andare a mettere i widget. Bisogna tenere premuto, si appare questa cosa in Android KitKat, quindi con widget, impostazioni e sfondi e bisogna praticamente andare qui a scegliere poi. Cosa fare? Se scegliamo widget, si aprono i widget e si possono scegliere tutti i widget da andare ad inserire poi nella schermata. Per esempio, se vogliamo inserire un widget di Eurospost, basta tenere premuto e decidere poi su quale schermata vogliamo andare a mettere. Per esempio, lo mettiamo qui. Vabbè, ok, non mi sembra il caso di andare ulteriormente avanti. Bene, quindi questo era alcune delle novità. Poi tramite il classico, diciamo, tenendo premuto a Duomo e andando su si entra su Google Now, si può ricercare. Poi andando in impostazione, così vediamo anche un pochino di roba, abbiamo... Innanzitutto voglio farvi vedere la memoria. Allora, la memoria disponibile, in questo caso nel mio dispositivo, è di 12,55 GB. Il mio, infatti, è una versione da 16 e quella rimanente è 12,55. Mi sembra davvero pochina, perché comunque io ho già installato alcune applicazioni e questo praticamente mi ha già portato via un po' di dati. Ho installato diverse app e li ho portato fuori praticamente via già la metà dei miei giga a disposizione. E non ho installato un navigatore offline. Quindi direi che i giga di questo dispositivo, se vogliamo comprare il Nekus, io vi consiglio di prendere il 32 GB. Comunque, detto questo, visto quindi quant'è la memoria, c'è il Touch & Pay, che praticamente serve per pagare con un tocco. Quindi c'è anche la possibilità per quando troviamo qualcosa che ci abbrita questa funzionalità. Poi la batteria, allora, la batteria è da 2300 mAh e diciamo che non mi ha entusiasmato né mi ha deluso. Cioè diciamo che siamo sui classici top di gamma, cioè che ci coprono, diciamo, un po' tutta la giornata, più o meno. Ci portano fino a sera, magari le volte anche un po' più di sera, fino a sera da tarda, ma non di più. Questa è l'autonomia del Nekus. Buona invece, diciamo, il consumo di batteria quando il dispositivo è in stand-by, mi è sembrato che consumi davvero davvero poco. Quindi, se facciamo un uso magari intenso, ma a tratti, magari il dispositivo può portarci anche più avanti. Poi, andando ulteriormente avanti, direi allora di vedere l'opzione stampa. Ci permette, infatti, di stampare con le stampanti Wi-Fi e info sul telefono. Ci permette di andare a vedere che questo dispositivo monta la versione di Android 4.4. Andando poi a cliccare più volte si può giocare con la cappa. Se si gioca tanto, ecco che esce fuori Android in stile KitKat con Android da appunto 4.4. Bene, detto questo, allora direi di andare a provare la qualità telefono del dispositivo. Mi sposto, così posso andare a chiamare il 190, visto che è presente anche la ricerca rapida in rubrica. Vediamo un po' quindi com'è l'audio del dispositivo. Allora, l'audio è alto, di buona qualità e mi è sembrato essere anche con una discreta potenza. Forse, forse, distorce un po' troppo quando è al massimo volume. Quindi, ecco, abbassare di uno o due tacche il massimo del volume forse è la migliore scelta. Comunque, buono l'audio in via voce. E oggi che stiamo parlando di audio, vediamo anche di sentirci qualche canzone. Così dimoro che abbiamo anche, finiamo a parlare dell'audio. Ci spostiamo un attimo, ecco qua. Allora, l'audio in questo dispositivo mi piace, mi è piaciuto particolarmente e direi che è davvero di buon livello. Vabbè, direi che può bastare, resta a parlare di audio. Abbiamo parlato anche di parte telefonica, parliamo quindi a questo punto di ricezione, che è buona, di ottimo livello. E anche la potenza Wi-Fi, la ricezione Wi-Fi, mi è sembrata di ottimo livello. Quindi direi buono questo dispositivo da questo punto di vista. Allora, già che ci siamo, andrei a parlare un attimino di schermo. Andrei a vedere, ecco, questa immagine tutta nera. Purtroppo ci saranno sicuramente un po' di riflessi. Quindi, ecco, il nero su questo dispositivo non è molto nero. Cioè, nel senso, tende ad essere un nero un pochino troppo luminoso. Questo perché? Perché la luminosità di questo dispositivo è davvero elevata. Perciò, se vogliamo apprezzare davvero il nero, dobbiamo andare ad abbassare un pochino la luminosità. Che invece è davvero particolare, è molto alta e quindi alle volte, nella notte, sembra quasi un faro se mettiamo al massimo della luminosità. Anzi, già che sta parlando di luminosità, vi dico che la luminosità automatica a me non ha convinto particolarmente. Cioè, nel senso, alle volte il sensore mi è sembrato un pochino piccolo nell'adattarsi alle condizioni ambientali. Questo invece è un bianco con schitta nera e sicuramente il contrasto è molto meglio bianco con schitta nera. Visto che il telefono è particolarmente luminoso. Questo, infatti, ci aiuta particolarmente nel browser. Quindi, andiamo avanti. Andiamo a parlare, allora, a questo punto, di... Un po' dei colori del display, eccetera. Vediamo un po', allora, di... Andare a vedere questa palette di colori. Ecco qua qua. I colori sul dispositivo mi sembrano buoni, ottimi. Andiamo a vedere qualche immagine, magari... Ecco questa qua, magari un po' più colorata, la giriamo anche. Ecco qua. I colori mi sembrano molto, molto fedeli alla realtà. Il display mi sembra che sia di buon livello a questo punto. Magari non sono colori proprio accesissimi, ma mi sembrano molto, molto fedeli. Ah, alcuni mi dicevano che come erano gli angoli di visuale e i colori. I colori mi sembrano buoni, dell'umistà abbiamo già parlato. Per quanto riguarda gli angoli di visuale, sinceramente, mi sembrano di buon livello. Anzi, già che stiamo parlando di questo, facciamo un attimo... Andiamo un attimo sul browser. Parliamo del browser, poi riprendiamo a parlare del display. Ecco, siamo sul nostro sito, andrò il blog, lo sta caricando. Io se mi metto in questa posizione, ecco qua, oppure in questa, oppure in questa, oppure in quest'altra, sinceramente io non vedo questa grande difficoltà degli angoli di visione. Anzi, a me questo display mi ha convinto particolarmente. Già che siamo qui, andiamo allora, dopo il nostro sito, andiamo quindi su The Verge e vediamo un pochino anche l'obiettivo, come si comporta con un sito magari bello pesante. Ok, versione mobile, a noi non ci serve la versione mobile, ci serve la versione full site. Abbiamo aperto Google Chrome, perché Google Chrome è il browser stock presente su questo dispositivo, non c'è il browser, diciamo, di Android. E quindi andiamo a vedere il full site, vediamo quindi un po' come si comporta il dispositivo. Eccoci qua. Bene, direi ottimo, ottima sia l'apertura, sia la fluidità, sia anche lo scrolling quando si va ad aprire il sito. Ecco, vedete quello che dicevo prima, il contrasto bianco-nero? È molto acceso, è molto presente su questo sfondo bianco, e ciò aiuta molto alla lettura dei testi sul browser oppure su altre applicazioni. Quindi direi buono anche il doppio tap e anche i vari zoom e quant'altro. Quindi il browser è davvero di ottimo livello. Torniamo allora a parlare del display, eravamo qui. Andiamo allora a vederci un... Ecco qua, andiamo a vederci in questo caso un FLV per vedere se il dispositivo legge gli FLV. Siamo in streaming, quindi un attimo, che il dispositivo vada ad aprire il video. Vediamo quindi un po' se legge questo... Questo FLV. Sì, eccolo qua. Com'è la vita di un criminale internazionale in pensione? Mi serve il tuo aiuto, Dom. Perfetto. Direi che il FLV si vede perfettamente. Allora, già che ci stiamo, vediamo anche se il dispositivo riproduce gli MKV, che in genere sono sempre un po' più difficoltosi da riprodurre. Direi che anche l'MKV viene riprodotto senza alcun tipo di problema. È davvero uno dei pochi telefoni che riesce a riprodurre anche gli MKV. I DVX non vengono riprodotti. Allora, già che ci siamo, riproduciamo un 1080p. Per qualcuno che magari si chiede se il dispositivo riproduca anche i video Ultra HD, quindi diciamo i 4K, i standard di ultima generazione, no. Questo no, quindi i 4K non vengono riprodotti su questo dispositivo. Per quanto riguarda invece i 1080p, vengono riprodotti perfettamente, senza nessun tipo di problema. E anche, direi, con una ottima performance. Bene, perfetto. Quindi il display mi ha convinto particolarmente. E allora andiamo a parlare... Ecco, già che ci siamo, parliamo di email, visto che la vedo qua. Ecco qua. Ecco l'email. Direi, ecco l'email perché finalmente, perlomeno, su questo Nexus, poi non so se sarà così anche su altri dispositivi di altre marche, sembra che praticamente si sia riuscito finalmente a permettere di fare il resize di tutta quanta l'email su una sola pagina. Quindi vedete come sono riuscito a vedere tutta l'email su una sola pagina. E posso rimpicciolire addirittura anche di più della dimensione della pagina. Quindi questa è una buona cosa, spero che sia una caratteristica poi comune a tutti quanti i dispositivi che monteranno Android 4.4. Quindi, ottime le email. Allora, direi a questo punto di andare a parlare... Prima di parlare di fotocamera, che è un discorso abbastanza interessante, farei la prova per vedere se il dispositivo legge delle chiavette. Ho collegato quindi questa chiavetta, ma il dispositivo mi sembra che non le legga. Però, per correttezza, proviamo anche un'altra chiavetta, visto che magari questa non è particolarmente buona per lui. Vediamo se legge quest'altra chiavetta, ma la luce non lampeggia e non lampeggiava neanche sull'altra. Quindi direi che il dispositivo... Ah, ecco, attenzione. Forse qualcosa sta leggendo. Allora, un attimo. Cioè, che io sape il dispositivo non legge le chiavette, però è una prova che facciamo se magari succede un miracolo o niente. No, infatti il dispositivo non va a leggere le chiavette e quindi anche la prova sul campo conferma questa cosa. Quindi abbiamo parlato allora anche di questo. Parlerei allora anche un attimo, prima della fotocamera, non lo so che vi faccio attendere, ma parlerei un attimo anche dell'ottimo, dell'ottimo Quick Office che viene installato di serie sul dispositivo. Dove sta, dove sta, dove sta, dove sta, eccolo qua. Quick Office. Questo è un dispositivo davvero di buonissimo... Un dispositivo, un'applicazione davvero di buonissimo... alle volte, per qualche modifica rapida, qualche lettura rapida di questi dispositivi sicuramente non sostituiamo un PC, ma direi che è ottima come cosa. Bene, detto quindi anche questo, parliamo di fotocamera. Allora, mettiamo la nostra chiavetta come sfondo, in questo caso, e andiamo a scattare una foto. Quando si clicca, praticamente viene messo questa sorta di pallina che gira, perché va a mettere a fuoco. Si può poi scattare con questo tasto. Questo ci permette di andare... questo tasto qui ci permette di settare il flash, di andare nelle impostazioni, di andare a cambiare fotocamera, di andare a mettere HDR e l'esposizione. Poi abbiamo, come altra opzione, l'autoscatto, il tag GPS, la scena, il bilanciamento del bianco e quant'altro. Possiamo scegliere poi anche di fare videocamera, oppure di fare foto panoramica, oppure foto a 360 gradi, davvero particolare. Queste sono le possibilità che abbiamo con questa fotocamera. Ma allora, andiamo a vedere gli scatti che siamo usciti a realizzare con questa fotocamera, che vi ricordo, è essere da 8 megapixel. Quindi andrei in galleria, eccoci qua, fotocamera, e vediamo un pochino allora il dispositivo come si comporta. Allora, vi dico già che le foto che vengono realizzate con il Nexus sono di buona qualità, ma non sono sicuramente di eccelsa qualità. Vado a fare zoom particolare, i dettagli, come in questo caso, spero che vi riuscite a farvelo vedere, i dettagli perdono di definizione. Se vengono viste al PC, le foto sono buone, ma non gridiamo sicuramente al miracolo. Anche questa non è venuta male, ma ogni volta che si va ad ingrandire particolarmente la foto, i dettagli cominciano a perdere leggermente di definizione. Questa è una foto fatta invece in condizioni di scarsissima luminosità, e devo dire che viene fatta abbastanza bene, il flash funziona abbastanza bene, però quando siamo in condizioni magari di luminosità all'imbrunire fuori, o comunque dove il flash deve illuminare una zona un po' più ampia rispetto a questa dove abbiamo visto un oggetto, il dispositivo sinceramente fa un po' di fatica. Diciamo che abbiamo, ecco, una camera che ha una buona qualità, ma nulla di eccezionale. È una classica 8 megapixel che secondo me si allinea ai dispositivi di fascia media, medio alta, non ai top di gamma. Andiamoci quindi a vedere adesso un video che comunque viene fatto bene. Bene ragazzi, stiamo realizzando con il nuovissimo Nexus 5 questo video. Per vedere un pochino come si comporta il dispositivo proviamo anche a zoomare, lo zoom arriva fino a 4x e direi che fino a questa dimensione di zoom più o meno ci siamo. Proviamo anche un adattamento ai cambi di luce, quindi questo era il video con il Nexus 5. Quindi anche il video mi è sembrato essere di buon livello, ripeto, nulla di trascendentale, ma una buona fotocamera per un ottimo comunque dispositivo. Bene, allora direi che ci mancano solo due test da fare, un test e il GPS, vediamo un po' se l'ho lasciato attivo. Sì, l'ho lasciato attivo, benissimo. Il GPS mi è sembrato essere comunque particolarmente reattivo. Già mi ha visto 20 satelliti appena ho attaccato il GPS e comunque per quanto riguarda la navigazione il dispositivo mi è sembrato essere comunque abbastanza reattivo. Ora siamo dentro, quindi sicuramente dobbiamo andare a darle qualche attenuante, e non so se ora aggancerà i satelliti come mi è successo fuori, ma in genere ha trovato subito la nostra posizione e con l'ausilio dei dati idrisi poi la situazione va ancora meglio. Sta ricercando ancora il GPS. Leghiamo qualche altro secondino, poi direi che possiamo concludere la nostra prova. Vabbè, per ora non si è ancora agganciato a nessun tipo di satelliti, ma fidatevi, il dispositivo funziona abbastanza bene con la navigazione stradale. Io però l'ho provato con dei navigatori che non sono offline. Per quanto riguarda gli offline non saprei dirvi. Quelli online però funzionano molto bene e in genere il GPS si attacca entro 30 secondi o un minuto, non di più, e ci indica la posizione. Bene, allora ci manca solo di provare Asphalt. Questa volta proveremo Asphalt 8. E abbiamo deciso di prendere questo nuovo gioco rispetto ad Asphalt 7, visto che è uscito. Lo trovate anche in versione gratuita sul sito, sul Play Store. Ora abbiamo già fatto una recensione sul nostro sito, se chi vuole può andare a vederla. E direi allora di giocare a questo gioco. Quindi, giocatore singolo. Allora, cerchiamo di fare una cosa rapida. Bene, facciamo avanti, avanti, senza potenziamenti. Inisagara, ok. Vediamo un po', quindi, come va il gioco di Asphalt 7. Magari ci avviciniamo anche un pochino alla camera, sperando che questi riflessi, provo a chiudere un po' la finestra, non ci disturbino troppo. Ecco qua, siamo pronti a partire con la nostra macchina fiammante. La doggio, abbiamo preso. Ecco qua. Direi che il dispositivo risulta essere particolarmente fluido, senza alcun tipo di problema, anche quando vado ad accelerare particolarmente, io sinceramente non noto alcun tipo di ritardo o alcun tipo di impuntamento. Ecco, vado a riaccelerare e il dispositivo mi permette di giocare senza alcun tipo di problema, impuntamento o altro. Quindi, cosa dire di questo Nexus 5? È un dispositivo, secondo me, fantastico. Davvero di livello, ha un prezzo eccezionale, vi ricordo 3,99 per il 32 GB, che se non me è quello da acquistare, chi vuole anche il 16, ha 349 euro. È un dispositivo fluido, reattivo, sotto ogni tipo di vista, ogni punto di vista, permette di giocare tranquillamente, di andare su internet, di scaricare quello che volete, di leggerlo come volete, di andare appena con questo tipo di applicazione, perché l'ispettivo non fa problemi con nessun tipo di applicazione, perlomeno quello che ho provato io e sono abbastanza pesanti, e soprattutto garantisce sempre gli aggiornamenti di Google prima di tutti quanti gli altri. Forse l'unico punto un pochino che mi ha convinto di meno, è solo un pizzico la batteria e un pizzico la camera, ma sono davvero dei, come dire, delle piccolezze in un dispositivo invece, che è davvero, davvero fantastico. Quindi, complimenti all'LG, è in accoppiata con Google, in questo caso, il dispositivo mi è piaciuto molto, questo Nexus 5 è davvero fantastico, un grazie a tutti, quindi ai nostri amici di Age Mobile e di Android Blog, ci rivediamo alle prossime recensioni, spero che vi sia piaciuta questa del Nexus 5. Allora, ciao a tutti, Mauro degli Innocenti per AndroidBlog.it